Ciao ragazzi! Com'è tutto bene? Oggi siamo in compagnia di Mark Maxwell che è uno degli animatori del videogioco di Batman e con lui proveremo il motion capture che ora mi spiegherà bene che cos'è perché anche noi non è che lo sappiamo bene Ciao! Sono un animatore cinematico per videogame e usiamo molti di motion capture ciò che usiamo in grande motion capture studios con sistemi come Bicon ma cosa che vi mostrerò oggi è una semplice versione che puoi fare a casa. Questo è il Perception Neuron e questo è un nuovo sistema creato da una chinesa company per circa 1,000$ e usa Giro Neurons che si lineate in questi trappi e si mette e avrà una connessione al computer Ora facciamo un piccolo test per traccarlo col computer e poi sarò tipo un uomino tutto strano Frizzella ma ha le braccia un po' lunghe i t-rex hanno le braccia piccole però cadere due 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 Ha fatto la scena, ha fatto la scena Sì, è super Il T-Rex è arrivato a uscire Non è che non fanno così il T-Rex Praticamente le scena Che stavo per vedere sono Quelle in cui lui si è mappato Con il Mosho Capture e ha fatto Batman Wow È bellissimo il video In questa scena c'è solo Mark Tutti i personaggi sono Mark Feghissimo Ah sì, questo era il veleno Che ti faceva esplodere In fare super mescolone Praticamente Mark mi ha appena spiegato Che ha inserito dei messaggi subliminali Dentro al videogioco Ok E ha fatto il negozio di Nanjimagro Ve la ricordate che è Nanjimagro? È lei Ciao 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 Come ti senti ad avere un negozio Dentro al videogioco di Batman Sono molto contenta Vendo tantissimo In Gotham Comprano tutti Finalmente Un successo strepitoso Batman è tutto un latex Il mio cliente più rompipalle Ecco Che in realtà è Mark In realtà è Mark Che fa il motion capture di Batman Che mi paga È un'associazione di vincere questa Raga Mi fate paura voi due, ok? Probabilmente siete anche più strani di me Katia A sto punto Sì, poi dei quattro facciamo un spodermone Ecco La brone della madre Quindi in ogni caso ricordatevi che se vi ritrovate nel videogioco di Batman Di comprare cose da Nanjimagro Perché è chiuso il fallimento il negozio dentro Ma come è dato che stavi vendendo? Ah è chiuso Non l'avevo visto il cartello È chiuso È tutto evacuato Sono scappata via Ma perché hai venduto troppo? Ho venduto troppo Sono fallita Vabbè vado poppa curva Non hai venduto la riserta Com'è? Con la patatonta Perché è pronta a fare la mamma Guardate Non c'è nessuno Ma li sono mangiati Ma no Dove sono? Sono scappati tutti Non ti credi Comunque stava tenendo degli esserini Festi Ciao